La Commissione Ater, presiduta da Mimo Taglieri, spinge il piede sull'acceleratore. Dopo aver esaminato le domande delle case parcheggio, la cui gradatoria è rimasta pubblica per 15 giorni, il sostegno istituzionale del Comune di Sulmona, e dopo aver vagliato le 40 richieste delle case popolari, ora tocca al contratto di quartiere. Proprio in queste ore le 70 domande pervenute, dove il bando pubblicato da Comune di Sulmona sono al vaglio dell'appostita Commissione, che dovrà selezionare quelle che meritano l'immediata assegnazione dell'alloggio, perché pienamente rispondenti ai termini dell'avviso pubblico e quelle da stralciare. Sarà necessario, al termine di questa operazione, indire un nuovo bando di gara dal momento che le richieste sul tavolo della Commissione non sono arrivate da tutte le categorie, ad esempio dagli studenti. Gli alloggi disponibili sono 64, tutti di ultima generazione, 24 quelli riservati alle coppie di anziani, 16 per le giovani coppie, 8 per anziani con disabilità. Il progetto di lungo corso, avviato nel 2002 e poi passato attraverso una gara andata deserta nel 2006, è ripartito a novembre 2014. Gli alloggi sono stati costruiti con un importo complessivo di 5 milioni di euro. Si comincia a smuovere qualcosa sul fronte dell'emergenza abitativa.